Le convergenze ci sono, fanno sapere Lega e 5 Stelle in un comunicato a doppia firma. Si comincia da reddito di cittadinanza e flat tax, poi legge Fornero e sicurezza. Sul tavolo riferiscono i grillini anche il conflitto di interessi. Domani nuovi incontri, a oltranza, per chiudere entro domenica il contratto di governo. Poi si dovrà affrontare il nodo premiership. Nelle ultime ore sta prendendo quota l'ipotesi di un nome terzo di alto profilo, con una storia della pubblica amministrazione. Mentre Di Maio e Salvini, che probabilmente entreranno nella squadra di governo, coabiterebbero con pari funzioni in una sorta di copremierato. Parallelamente si gioca la partita per i ministeri. Per la Lega si fanno i nomi di Giancarlo Giorgetti, di Giulia Bongiorno e degli economisti Alberto Bagnai e Armando Siri. I 5 Stelle pescheranno da quella che considerano la propria squadra dei ministri. In Pol, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede e Paola Giannetakis.